Forse Lady McKendrick è di una classe più alta di quelle che frequenti di solito. Ah, Bruno, mio caro friend... Freddino stasera, eh? Dovrei mettermi qualcosa addosso. Per le palle di Newton! Che succede qui? Oh, merda! Di nuovo quegli esseri! Oh, merda! Ehi! C'è qualcun altro qui? O meglio, qualcuno che non abbia un aspetto vagamente necrotico? Sono più pazzo io! Bocchetto mio! Scobbetto sul muro! Il che mi fa credito? Non basta staccare un braccio per fermare quelle teste bacate! Quella grossa pietra che ho visto prima sembrava interessante. Aveva un buon odore, molto... aromatico. Aromatico? Giusto! Dimenticavo che i muri possono farlo. All'istante! Sì! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Sì, lo scettro dirà Sembra pronto all'uso Ponte bonus Visto, Evelyn? Sono diventato ricco Ricco, fondato Munizioni scarse Sono sicuro al 99% che sia un problema Un oggetto inanimato che materializza dal nulla Un meccanismo complesso Pietro con penso Per giunta Grazie a tutti Che razza di interazione chimica Può produrre una combustione Che colpisce solo i nostri avversari Sarò sincero? Non lo so Il muro genera munizioni Direttamente in un Ristretto spazio in movimento Dentro la mia arma Sfida un illecchio della fisica Soddisfacente come far passare un filo nella cruna di un'accia Che non ho neanche dovuto leccarle Che non ho neanche dovuto leccarle Prendi e porta a casa Mostro Ho l'arma quasi scarica Non è giornata Masha? No Proprio per niente Altre munizioni Sono stati soldi ben spesi Dico sul serio Doppi punti Punti eh? Ci manca solo un tabellone gigante Su cui segnare i punteggi Insomma Ci danno dei nemici E dei modi per ucciderli Sembra quasi un grande gioco Colpi finiti Devo trovarne altri Il prima possibile L'estima ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no Non avvicinarmi! Che piazza! Non morto! Troviamoci delle munizioni! Ne va della mia sopravvivenza! Se questi muri potessero parlare direbbero Hanno sparato tutti allo stesso bersaglio! Speravo di non andare su e giù per queste scale troppo spesso Ho una certa età, ma io Speravo di non Ora che ci penso? Quella stagia non sia finita qui? Lo so, magia... Certo, quello è un macigno Ci vorrebbe una magia piuttosto muscolata Oh guardate, non è adorabile? Ok Grazie a tutti Lo sapevo che non dovevo sparare tutti quei colpi Ormai è tardi Munizioni al massimo Una voce ordina? E l'ordine viene eseguito? Un ordine dal grande oltre E' così che gira il mondo? Adesso? Il manufatto! Se ha dato inizio a questo delirio Può anche aiutarci a fermarlo? E' impuso di elettricità allo stato puro! Qualcuno sta giocando con gli elementi Se non seguisci la via terapia speciale di sicuro farebbe più male Grande oltre? Per cortesia! Potresti darmi delle munizioni? So che mi senti! Di sicuro è una procedura fisica o chimica? Eh ma non chiedetemi altro Solo a me sembra che abbiamo peggiorato le cose Ho attraversato il tempo e lo spazio! E rieccomi qui ancora su questa nuova Che cazzo? Un mostro d'acqua? Se potessi averne un canacchino Ah quel tappetto blu ha rotto i coglioni Un mostro d'acqua? L'arma è quasi scarica Non è giornata Eh tu? No, proprio per niente Oh! Il vecchio trucco del muro che vende armi Un classico Ponte bonus Apprazzo il versamento Io me lo merito Gli altri? Non altrettanto Considerato il vostro linguaggio limitato Forse questo era un modo di salutare Se è così Ricambierò il saluto Proviamoci delle munizioni Ne va della mia sopravvivenza Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.